Si è svolto perso la sede di Assindustria Lucca un interessante convegno dal titolo La Compra-Vendita Immobiliare Soluzioni Alternative, organizzato dalla stessa Assindustria, da Ance Lucca e App Lucca, in collaborazione con FIAIP Lucca, Consorzio Sistema Edile Lucca e Assi Project Broker, che ha visto la partecipazione di un elevato numero di operatori del settore. Nel corso del convegno è stata illustrata una particolare fattispecie di Compra-Vendita, proposta da Ance Lucca, per cercare di rivitalizzare il mercato immobiliare che vive attualmente una fase di profonda stagnazione. La proposta prevede la stipula di una nuova formula contrattuale, che studiata con particolare riferimento alle imprese di costruzioni nella qualità di venditori, può, con opportuni aggiustamenti, essere utilizzata anche dal singolo proprietario. Vediamo allora quali sono i punti principali. Innanzitutto la corrisponzione, al momento della sottoscrizione del contratto, da parte dell'acquirente di un anticipo sul prezzo stabilito, seguita dall'impegno dell'acquirente al versamento del saldo, entro un termine fissato dalle parti, i rati costanti mensili con il venditore in presedile, quindi che finanzia il residuo da versare. Ci dovranno essere anche specifiche garanzie assicurative a favore del venditore, ed infine, importante, l'acquirente si deve impegnare a far eseguire al venditore tutte le opere di manutenzione e di adeguamento che si rendessero necessarie sull'immobile oggetto della compravendita per tutto il periodo della raterizzazione, come regolato da un apposito contratto di manutenzione.